lunedì 9 settembre buongiorno ben trovati appuntamento il primo della settimana con mattino 6 la nostra rassegna stampa come sempre nella seconda parte daremo grande spazio allo sport al calcio in particolare andando a vedere i servizi delle gare giocate ieri parleremo anche del teramo sconfitto nell'anticipo di sabato sera al partenio di Avellino daremo anche uno sguardo in casa pescara in vista della gara di domenica prossima a Cosenza ma andiamo per ordine iniziamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi la prima pagina del centro edizione di pescara ci parla con il titolo di apertura che vedete inquadrato in questo istante dell'ennesima tragedia sulle nostre strade a silvi e ieri incidente mortale lungo la strada statale 16 lei muore grave il marito incidente per una coppia di città sant'angelo la vittima aveva 60 anni vediamo anche più in basso lo sport come vi dicevo ampia la pagina come tutti lunedì in questo caso si parla del trionfo ferrari a monza leclerc strepitoso lo vedete nella foto dopo dieci anni la rossa torna a vincere in casa vediamo le altre notizie dramma nel lago di scanno perde la vita 55 anni dopo la gara di nuoto parcheggi riservati critiche dei negozianti polemiche dopo il giova party per i parcheggi rimasti vuoti ed inutilizzati a pescara e poi proteste all'aeroporto niente taxi per i turisti la guerra degli stalli oggi giornata di sciopero dei tassisti di pescara all'aeroporto d'abruzzo restando a pescara libri scolastici ultimi scambi al mercatino anno scolastico che inizierà ufficialmente lunedì prossimo vediamo altri titoli di sport la nazionale di mancini l'italia batte anche la finlandia euro 2020 ormai è ad un passo vedete nella foto piccola immobile l'ex biancazzurro tornato al gol con la maglia dell'italia dal l'ex biancazzurro immobile all'attuale biancazzurro tuminello protagonista con il pescare anche con l'under 21 giocatore che aveva segnato anche un gol nella gara di campionato con il pordenone era andato a segno anche in coppa italia e si è ripetuto è riuscito a ripetersi anche con la maglia dell'under 21 e poi il campionato regionale di eccellenza che ha preso ieri il via acqua e sapone pari con il delfino penne a valanga lasciamo la prima pagina di pescara del centro vediamo la pagina di chieti lanciano vasto muore nello schianto con la moto ritroviamo la notizia dell'incidente mortale a silvi e poi scanno vedete ucciso da un malore durante la gara nel lago chieti spaccio di cocaina spunta la carta fedeltà e poi ancora chieti amianto all'ex burgo la paura dei residenti a lanciano pienone per il dono via alle grandi feste vediamo anche in alto un titolo che riguarda la politica nazionale il presidente del consiglio conte si prepara alla fiducia zingaretti gli chiede lealtà vediamo invece le notizie i richiami delle notizie che poi troveremo all'interno del giornale per quanto riguarda la serie d in particolare festa chieti prima vittoria super traini stende il pineto nella gara giocata proprio a pineto con il chieti però padrone di casa e poi l'altro derby l'altro derby abruzzese di ieri in serie d bastese cappa o a giulianova è stato ufficializzato l'arrivo di vittorio esposito che però ieri non è sceso in campo vediamo anche la prima pagina di teramo del quotidiano il centro altre notizie oltre a quella tragica del di apertura dell'incidente di silvi l'inchiesta sul terrorismo islamici radicali tra alba adriatico e martin sicuro e poi penna sant'andrea ferito da un cervo vicino alla sua auto vediamo in questo caso le notizie di calcio che riguardano le formazioni terramane prima gioia del giulianova rimonta la bastese e poi il basket di serie a due roseto fa bene a caserta poi cede nel finale vediamo anche un'altra notizia giulianova non di sport in senso stretto la notte dello sport a giulianova più forte anche della pioggia è stata un successo vediamo la prima pagina di l'aquila vezzano sul mona in questo caso ritroviamo la notizia in apertura del dramma accaduto ieri nel lago di scanno la vittima è un 55enne di roma la tragedia davanti a centinaia di persone e poi vediamo nelle cronache a vezzano operata la spalla va in come muore c'è l'inchiesta l'aquila mega parcheggio via ai lavori di restauro e poi dieci anni dal terremoto ricostruzione al 50 per cento il 16 settembre tornerà all'aquila il presidente della repubblica mattarella vediamo poi la serie d in chiave aquilana formazioni della provincia dell'aquila in questo caso avezzano shock l'illusione con gaeta poi prende cinque gol a civita nuova marche nella gara con la san giustese poi promozione per l'aquila calcio tre sberle all'esordio inizio negativo per la formazione rosso blu vediamo anche la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero incidenti domenica di sangue nella nostra regione abbiamo detto e visto dell'incidente di silvi in cui ha perso la vita una sessantenne e giovane disernia perde la vita a castel di sangro motociclista di 32 anni invece finisce nel dirupo penna sant'andrea incornato da un cervo rischia la vita e poi il caso paulucci il capogruppo del pd in consiglio regionale marsiglio lascia a terra l'aeroporto si parla dei conti dell'aeroporto d'abruzzo che secondo paulucci non sarebbero in ordine vediamo altre notizie siamo a centro pagina il jove beach party promossa la sicurezza bilancio ieri sul concerto di sabato sera e poi terroristi finanziati con il commercio di tappeti preziosi l'aquila presunti jadaisti in manette dicevano benedetta la guerra in siria ricorderete l'operazione portata a termine nelle ultime ore proprio nella nostra regione poi anche sul messaggero ritroviamo la notizia tragica di scanno la gara di nuoto che finisce in tragedia lasciamo anche la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero andiamo a vedere come di consueto anche le prime pagine dei quotidiani nazionali tutti titoli o quasi incentrati anche quest'oggi sulla situazione politica con il governo che chiede la fiducia alle camere vediamo il corriere della sera migranti le nuove regole oggi conte alla camera per la fiducia riforma e crescita sarò il garante dice il presidente del consiglio e poi vedete grande spazio anche sul corriere della sera al trionfo ferrarista a monza leclerc capolavoro in pista monza celebra un campione vediamo repubblica sarà un governo costituente il premier conte conferma l'impegno sulle riforme oggi alla camera per la fiducia centrodestra diviso il leader leghista in piazza con meloni senza forza italia e poi anche repubblica celebra l'orgoglio italiano trionfa la ferrari delle principe rosso leclerc vediamo anche la prima pagina del fatto quotidiano tutti i siti e lavorare il discorso di conto oggi e domani il premier alle camere per la fiducia vediamo anche il giornale il rebus dei soldi il conte senza l'oste oggi in aula prometterà flessibilità dell'unione europea meno tasse e investimenti ecco perché è solo propaganda poi leclerc re di monza ora ferrari e lui il jolly del premier l'asse con gentiloni e poi si parla anche di un altro argomento chiesa in pressing stop all'eutanasia appello al premier ma il pd la vuole vediamo anche libero oggi in piazza a roma contro il governo la rivolta dei giusti lega e fratelli d'italia manifestano insieme nel giorno del voto di fiducia ai giallorossi vediamo la verità il quotidiano la verità le trame di pd e movimento 5 stelle per durare le trame di redzi per comandare questo è il titolo di apertura e poi vedete in basso così l'estate diversa dei figli di salvini e grillo ha condizionato il ribaltone più in basso un altro titolo molti più soldi pubblici e gay che ai disabili in italia i veri discriminati sono gli handicappati invece sui movimenti che riguardano proprio i gay sovvenzioni a pioggia scrive il quotidiano la verità vediamo il mattino di napoli migranti la francia ora apre l'assist in europa di parigi per un nuovo piano il progetto italiano porti aperti e ricollocazione dei migranti vedete anche sul quotidiano campano magico leclerc trionfo ferrari a monza siamo al messaggero messaggero nazionale in questo caso piano migranti la francia apre parigi offre un asse all'italia nell'unione europea il dossier di palazzo chigi porti aperti e ricollocazione e poi capolavoro leclerc tifosi in delirio trionfo ferrari a monza dopo nove anni vaccini a rischio scusate vaccini rischio scorte la corsa delle regioni contro l'emergenza questo il titolo che riguarda la questione vaccini nel nostro paese siamo al sole 24 ore il quotidiano economico oggi parla dell'apertura delle scuole in alcune regioni c'è già stata in altre ci saranno i prossimi giorni in abruzzo lo ricordiamo le scuole apriranno ufficialmente il 16 settembre ma i calendari sono ovviamente dipendono da scuola a scuola e a scuola scatta la corsa ai supplenti una cattedra su sette e vuota scrive il sole 24 ore le ombre sull'anno scolastico inizia oggi dal piemonte la settimana dei rientri scrive il sole nelle grandi regioni dal 2015 assunti 180 mila docenti ma resta il precariato ora servono almeno 122 mila professori a tempo determinato e l'italia rischia un'infrazione da parte dell'unione europea parliamo anche di fisco il fisco che parte dalle emergenze nuova fase clausole iva taglio alle tasse lotta alle evasione richiedono iniziative urgenti ma ci sono opportunità per arrivare ad un prelievo più equo andando oltre i luoghi comuni scrive il sole 24 ore il secolo punto it il no parte oggi da roma in piazza montecitorio la sfiducia degli italiani al governo conte con il tricolore vediamo altri titoli più in basso sul secolo punto it che è successo per scusate miss italia poi silvio noi responsabili ma nessun compromesso parla berlusconi e spiega la strategia di forza italia nei confronti del nuovo governo e poi chi comanda tra i grillini di maio messaggio a conte vediamo anche la stampa di torino migranti primo test del conte bis si parla ovviamente del nuovo governo e di come il nuovo governo tratterà la questione dei migranti poi formula 1 a monza il trionfo di leclerc rosse dietro il riscatto vedete c'è questo titolo il lavoro di marchionne il manager della fiat abruzzese scomparso lo scorso anno vediamo anche il tempo in piazza per farli vergognare un po scrive il quotidiano romano oggi conte celebra il ritorno del pd sulle poltrone peccato che gli italiani non ce li vogliano giorgia meloni invita davanti a montecitorio grande escluso il popolo che crede nel voto anche il tempo celebra la vittoria della ferrari a monza e poi a roma un titolo che riguarda proprio la capitale governo nuovo mondezza vecchia e crisi rifiuti vedete il titolo capitale verso l'emergenza la raggi si appella al ministero e spera nell'aiuto del pd ma per strada c'è il caos e a questo era l'ultimo quotidiano il tempo della nostra rassegna stampa nazionale del lunedì possiamo tornare a parlare di cronaca della nostra regione ripartendo dal centro e parlando di rinascita la rinascita difficile il post terremoto a dieci anni dal sisma vedete il titolo ricostruzione al 50 per cento i dati dell'ufficio speciale di fossa sul patrimonio privato nei comuni del doppio cratere la percentuale è al 15 per cento e come vedevamo e come abbiamo visto anche prima il presidente della repubblica mattarella sarà all'aquila il 16 settembre per la prima campanella nelle scuole della nostra regione il presidente della repubblica sarà al musp della primaria mariele ventre con scuole d'abruzzo vince la sicurezza parliamo invece dell'aeroporto d'abruzzo saga paulucci lancia l'allarme sui conti il capogruppo pidin consiglio regionale dice non approvati documenti contabili del 2018 l'assessore febo risponde tutto in ordine il bilancio è sano dunque botta e risposta tra centro sinistra e centro destra sui conti dell'aeroporto parliamo anche di giunta della giunta regionale rovente asl personale trabocchi seduta rovente in giunta l'esecutivo regionale si riunisce alle 16 e 30 e tanti gli argomenti punti all'ordine del giorno piuttosto spinosi in basso parliamo anche di vini con il montepulciano d'abruzzo che si salva dal clima pazzo il consorzio di tutela dice l'andamento medio non mette a rischio i rossi produzione in calo invece per i bianchi siamo alle cronache dalle province partiamo come di consueto da pescara o per meglio dire da montesilvano e pescara per parlare del dopo giovanotti del dopo jova beach party di sabato sera perché è stato un successo dal punto di vista della partecipazione anche sotto l'aspetto della sicurezza ma ci sono anche le polemiche le critiche in questo caso dei commercianti di pescara che parlano di un giorno di lavoro perso i posti auto infatti destinati al concerto nell'area di risulta di pescara hanno tenuto i consumatori lontani il sindaco masci non è stata una nostra scelta un grande evento il ritorno c'è stato e poi saltarello con giovanotti boom su web il gruppo folkloristico laccio d'amore sul palco abbiamo improvvisato tutto e poi vedete ancora l'altra pagina dedicata all'evento di sabato sera montesilvano in alto lo dicevamo prima tutto che sul fronte della sicurezza parla il questore di pescara francesco misiti impegnati per la sicurezza più di 400 uomini e donne vediamo anche sempre a montesilvano il bilancio giovanotti ringrazia la città abbiamo ballato di tutto ieri mattina c'è stata la conferenza stampa del sindaco degli assessori e del produttore del jova beach party salvadori che ha detto qui una squadra unita e fortissima ci avete fatto dimenticare basto è mancato non è mancato anche un momento dedicato alla solidarietà nel jova beach party vedete nella foto i ragazzi autistici del cireneo hanno donato un libro a giovanotti nel backstage dell'evento vediamo invece a pescara all'aeroporto d'abruzzo la guerra degli stalli ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi oggi c'è lo sciopero dei tassisti pescaresi niente corse per i turisti in arrivo corse regolari invece in città la protesta dell'ugl contro i due posteggi ai teatini la regione deve cambiare il regolamento dice la il sindacato dei tassisti cambiando argomento i veleni di bussi la regione chiede un miliardo riparte il processo proprio su questa vicenda con la richiesta da parte di risarcimento da parte della regione abruzzo andiamo più in basso parliamo del centenario dell'impresa di fiume di gabriele d'annunzio centro sinistra l'attacco parla di un d'annunzio strumentalizzato i consiglieri comunali polemizzano e chiedono aiuto al prefetto e poi la solidarietà ha soprattutto il ricordo di un terribile fatto di cronaca accaduto a pescara perché a villa sabbucchi è stata messa una panchina rosso il rossa in ricordo di anna la donna morta sotto il tunnel della stazione di pescara in tragiche circostanze e vedete nella foto la sorella isabella martello e poi a destra con fabbiola e jonathan sterlecchini il fratello e la madre della ragazza uccisa dall'ex fidanzato vediamo ancora la pagina di pescara mercatino dei libri allo spaz ultimi scambi fino a venerdì e poi la cronaca di nuovo crollo di calcinacci in via battisti i vigili chiudono la strada picchie minaccia padre e fratello siamo in provincia di pescara penne scatta il secondo arresto in tre mesi per un 43enne che ha aggredito i parenti nella casa di famiglia e poi danni da sole sulla pelle in campo 5 farmacie a pescara per informare sull'invecchiamento della pelle a causa dei raggi solari strade in arrivo fondi per la manutenzione parla l'ex consigliere regionale e dell'esecutivo d'alfonso mario mazzocca esecuzione dei lavori resa possibile dai finanziamenti della programmazione 2014 2020 andiamo avanti siamo la pagina di chieti sito contaminato la bonifica mianto all'ex burgo la paura dei residenti appello degli abitanti vicini al sito dismesso finisce regione il caso dei medici in fuga ospedale il consigliere stella del movimento 5 stelle interroga l'assessore alla sanità veri vogliamo risposte certe per i cittadini ancora la pagina di chieti maxi operazione antidroga il piano folle dello spaccio carta fedeltà per la cocaina un cliente fa la proposta al pusher un timbro a dose e ogni 10 una è gratis ricorderete anche questa operazione denominata tallone d'achillo che d'achille che nei giorni scorsi portò a sgominare una organizzazione dedica allo spaccio di sostanze stupefacenti andiamo ad ortona mare sicuro raddoppiati soccorsi il bilancio della capitaneria di porto ortonese cresciuti anche i controlli negli stabilimenti e poi la tradizione di lanciano la città invasa per il dono via alle feste e proprio nella città frentana siamo la pagina dell'aquila del centro in questo caso siamo però a scanno per parlare della tragedia avvenuta ieri durante una gara di nuoto si accascia dopo l'arrivo e muore nel lago la vittima 55 anni arrivava da roma e stava partecipando al campionato master inutili i soccorsi dei sanitari del 118 vediamo andiamo a vedere anche la prossima pagina ci porta in questo caso nella marsica da vezzano per un caso che vede ha visto una donna morire dopo essere andata in coma vedete operata la spalla va in coma e muore la donna aveva 67 anni il decesso dopo 33 giorni è stata sequestrata la cartella clinica e la salma piantonata in attesa dell'autopsia c'è stata questa denuncia della famiglia che vuole avere chiarezza su questa sulla morte di questa congiunta dopo un'operazione alla spalla da come leggiamo anche nel titolo celano appiccano il fuoco al casolare di cicciotti le fiamme accese con dell'olio bruciato il consigliere atto intimidatorio di stile mafioso e poi si schianta in moto giovane perde la vita castel di sangro antonino avicolli 33 anni è finito contro il garreile lascia moglie e un bimbo di un anno siamo a pagina di teramo a silvi l'incidente di cui parlavamo anche prima incidente mortale della tarda mattinata di ieri auto contro moto muore una donna la vittima è una sessantenne di città sant'angelo finita contro lo sparti traffico era in sella ad uno scooter con il marito gravemente ferito ricoverato in gravi condizioni all'ospedale mazzini di teramo montorio al volano al volano scusate motociclista finisce in un dirupo un 32enne aquilano si è schiantato prima contro il garreile stato soccorso con l'eleambulanza e appena a sant'andrea un'altra notizia di crona canziano incornato da un cervo l'animale era vicino alla sua auto e lo ha attaccato cambiato argomento giulianova sabato scatterà il fermo della pesca alle vongole andiamo ancora avanti l'inchiesta la max inchiesta in abruzzo islam radicale tra alba adriatica e martin sicuro le indagini e le intercettazioni svelano il passaggio di personaggi condannati per terrorismo internazionale e le reazioni danni all'immagine della città il sindaco bagnone attacca i media cronache eclatanti ci tuteleremo e la comunità islamica truentina l'attuale imam dice noi parliamo di pace e rispetto per tutti siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo andare vedere però prima di parlare di sport nella seconda parte l'inserto abruzzo del messaggero la prima pagina ci porta a pescara per tornare a parlare del jova beach party di sabato sera a montesilvano pubblico e sicurezza si brinda al successo e poi il bate diventa icona della destra bufera sullo spettacolo all'aurum con polemiche e poi vediamo l'altra notizia che ci porta in basso voce di mamma nell'incubatrice la bella novità del reparto di neonatologia dell'ospedale di pescara il macchinaio presentato dalla direttrice susanna di valeri un ospedale super dice l'assessore d'inizio e poi la cronaca inferno domestico appenne picchia padre e fratello uomo arrestato andiamo a vedere la pagina dell'aquila del messaggero arriva la videosorveglianza in 56 comuni del cratere e poi ride caterpillar live arti contemporane nel cuore del centro cittadino castel del monte il premio verga d'argento a letta e pietrucci premiati sono il politico avezzanese per anni sottosegretario alla presidenza del consiglio e il consigliere regionale andiamo in basso retata antiterrorismo al vaglio le intercettazioni proseguiamo la pagina di avezzano sul mona di cola uno sconosciuto alla politica siamo ad avezzano l'ex sindaco de angelis accusa l'ex arbitro di aver manovrato il genero mai sentito in consiglio comunale scanno muore per un malore master di nuoto e poi villetta barrea trovati sani e salvi due bikers romani dispersi andiamo più in basso vedete castel di sangro si schianta con la moto muore centauro molisano e poi celano incendiato il casolare del vice sindaco cicciotti e poi ancora avezzano fatale l'operazione alla spalla via alle indagini dei carabinieri abbiamo visto prima anche il titolo dal centro siamo alla pagina di chieti sempre dalle colonne del messaggero antenna vicino al liceo incognita salute scoppia il caso del 5g primo confronto in comune tra le associazioni ambientaliste le commissioni incaricate del dossier sulla nuova tecnologia basto palazzo davalos c'è il nuovo progetto per il muro e poi san salvo vittoria dei residenti annullato dal tar il regolamento sugli orari della movida la guerra dei decibel nella cittadina del chietino e poi lanciano i giovani riscoprono il dono gran folla al corteo in costume vedete anche dalla foto siamo alla pagina di teramo del messaggero schianto in moto all'incrocio muore donna grave il marito è accaduto a silvi ne abbiamo parlato anche prima vediamo l'altro titolo che ci porta a parlare del museo archeologico riapertura più vicina per quanto riguarda il museo archeologico di teramo e dopo i nuovi giovanotti si pensa a ramazzotti a giulianovo in vista dei prossimi eventi e poi penna sant'andrea incornato da un cervo per difendere l'auto gravissimo in ospedale siamo anche in questo caso arrivati allo sport allora prima di parlare di sport in chiave regionale prima di fermarci per qualche istante andiamo a vedere le prime pagine dei tre quotidiani sportivi nazionali partiamo dalla gazzetta dello sport ovviamente il titolo principale riguarda il trionfo rosso a monza le clerk dopo nove anni monza e rossa in delirio per il capolavoro del ferrarista vedete l'entusiasmo dei tifosi della rossa al termine del gran premio e poi l'italia l'italia di mancini italia c6 perché la vittoria in finlandia ieri sera per 2 1 avvicina il la qualificazione per euro 2020 vediamo il corriere dello sport trionfa ferrari a monza re leclerc questo il titolo del quotidiano sportivo romano e poi 6 su 6 l'italia euro 2020 ci siamo stesso titolo del gazzetta sul trionfo l'ennesimo degli azzurri guidati dall'ex pescarese ciro immobile vediamo anche tutto sport ferrarissimo tira titola il quotidiano torinese delirio rosso a monza leclerc e 100 mila tifosi pazzi di gioia vediamo anche il titolo sull'italia sette bello italia con gli azzurri vicini alla qualificazione poi vediamo anche due titoli che riguardano juventus e torino cristiano ronaldo sarri c'è un patto da 40 gol e poi torino guru adesso riga dritto si parla del giocatore granata in vista anche della ripresa del campionato che tornerà nella prossima settimana allora possiamo fermarci per qualche istante poi torneremo in studio seconda parte dedicata di mattino 6 interamente alla pagina sportiva andremo a vedere i primi servizi sulle gare giocate ieri ma inizieremo parlando in particolare del teramo battuto nell'anticipo di sabato sera ad avellino seconda parte di mattino 6 eccoci qui per parlare diffusamente di sport in questa seconda parte iniziamo dal centro dando uno sguardo breve all'impresa dell'italia e di sera la vittoria in casa della finlandia 2 1 blitz italia qualificazione vicina gli azzurri battono in trasferte finlandesi grazie alle reti di immobile e giorginio vediamo anche brevemente le pagelle degli azzurri donnarumma 6 e mezzo itso 6 bonucci 6 acerbi 6 emerson senza voto 6 e mezzo per sensi giorginio 6 e mezzo barella 6 e mezzo chiesa 6 e mezzo immobile 6 e mezzo pellegrini 6 florenzi 6 bernardeschi 6 belotti 6 talento e medagno ormai la pallavolo ha staccato il basket nazionali competitivi a livello internazionale campioni e ricambi la palla spicchi con problemi di gestione e crisi generazionale dunque movimenti a confronto in questo caso il volley e il basket trionfo leclerc capolavoro a monza l'abbiamo parlato anche prima vincere su questa pista vale dieci volte di più ha detto leclerc ma noi parliamo del calcio abruzzese partiamo dal pescara con questa pagina dedicata a tuminello riscatto grinta e golle turbo tuminello tre marcature col pescara debutto in rete con l'under 21 partenza di stagione sprint per l'attaccante che vuol far dimenticare mancuso lo scorso anno 19 reti con la maglia bianca azzurra e vediamo tornando un attimo a parlare delle nazionali domani gli azzurrini saranno in campo a castel di sangro al patini la sfida a lussemburgo per la qualificazione agli europei l'ex bianca azzurro sottil scalpita vediamo anche il messaggero il messaggero che parla del pescara con zauri che ha deciso avanti con il 4 3 3 per domenica cosenza la ripresa dopo la sosta il tecnico confermerà il sistema di gioco di grazie galano decisivi per la consacrazione del delfile poi colonnello ex bianca azzurra promuove il mister credere nelle sue idee parliamo anche di calcio a 5 e questa pone si fa sul serio c'è la supercoppa sabato prossimo a peso il big match sono stati organizzati dei pullman per i tifosi che vorranno seguire la squadra vediamo il teramo vi dicevo prima doppio k o questo teramo non sa ancora lottare sconfitte diverse a catanzaro ed avellino ma emerge la disabitudine a giocare nel girone meridionale l'asica rientro dobbiamo tutti migliorare senza alibi nel prossimo turno ci sarà la gara con la cavese si giocherà al bonolis oppure allo stadio adriatico di pescara se ne saprà di più nella giornata di mercoledì vediamo il centro il centro come parla del teramo teramo cantiere aperto c'è ancora da lavorare rebus stadio lo dicevo qualche istante fa entro mercoledì si saprà dove si giocherà la gara con la cavese e terra la sola in vetta dopo i primi 270 minuti di campionato il catania cade a potenza allora andiamo a vedere i risultati dell'ultimo turno delle gare giocate ieri cavese vibonese 1 a 1 monopoli catanzaro 0 a 1 potenza catania 2 a 0 regina bisceglie 3 a 0 rende ternana 1 a 2 rieti bari 1 a 2 sicula leonzio paganese 2 a 2 virtus francavilla casertana 1 a 1 viterbese picerno 1 a 2 e dunque per il teramo c'è stata questa sconfitta con l'avellino teramo lo ricordiamo che deve recuperare una gara quella rinviata con la sicula leonzio allora andiamo a vedere facciamo un passo indietro andiamo a vedere quello che è accaduto sabato sera al partenio nel servizio il teramo cade anche ad avellino e riprende il campionato nel peggiore dei modi 2 a 0 per dirpini in una gara segnata da tanti minuti di inferiorità numerica ma soprattutto da un atteggiamento troppo passevo di una squadra quella di bruno tedino surclassata nel ritmo e nella voglia da quella dell'amico ignoffo cianci parte dall'inizio ma la sua gara donerà solamente 31 minuti l'avvio sembra incoraggiante con l'ex senese che di testa al decimo impegna a bivi ben imbeccato da rigoni i bianco verdi di casa lasciano l'iniziativa agli ospiti per colpire in contropiede in uno di questi parisi motorino inesauribile della manovra campana fa spendere un cartellino a piacentini e di paolo antonio prova assuntuosa la sua impegna tomei nella deviazione nel calcio d'angolo è una strategia studiata in settimana e si vede ma consolidata una volta trovato il vantaggio al 29esimo quando rossetti scappa a sinistra ad una retroguardia che gli lascia troppo spazio e il servizio trova il tap in decisivo di mikowski che anticipa di matteo in chiusura disperata ma non può evitare il vantaggio bianco verde che indirizza la partita esattamente come due minuti più tardi il rosso diretto rimediato da cianci dopo un colpo proibito su janes dopo un fallo su mungo la punizione chiama bibi alla respinta ma il teramo sa che la gara si fa ancora più in salita tedino negli spogliatoi lascia mungo in ombra e nervoso e santoro apparso non ancora al meglio della forma per inserire martignago e lascic le cose migliorano con l'ex albissola che il 58esimo raccoglie un corner calciato da bombaggi uno dei pochi a salvarsi ma girando alto da posizione molto favorevole la conclusione col destro mancato il pari il diavolo inizia a risentire della fatica di un forcing portato con un uomo in meno e prestando il fianco alla manovra dell'avellino che pare più affamato più voglioso di conquistare i tre punti in paglio entrano anche tentardini e viero ignoffo getta nella mischia anche l'ultimo dei nuovi arrivati cari c'era mossa da subito quasi sui frutti perché l'ennesima ripartenza di casa da un quarto d'ora dalla fine libera alla conclusione proprio lui servito come di consueto da un passaggio non look di di paolo antonio biglia in buca d'angolo e gara finita il diavolo esce con le ossa rotte ancora fermo a zero punti in classifica seppur con una gara in meno la questione non è grave ma far finta di non aver visto al di là del risultato quanto questa squadra sia ben lontana dallo spirito del girone c sarebbe peccato ancora più capitale e questo è il servizio di Jacopo Forcella sulla sconfitta del Teramo apriamo la pagina dedicata alla serie di ieri due derby nel girone F il primo allo stadio Rubens Fadini con la vittoria del Giulianova vedete la vittoria del carattere proprio così giallorossi sotto di un gol al termine del primo tempo anche con un rigore fallito riescono nella ripresa a ribaltare il punteggio va stesse meglio nel primo tempo poi i giallorossi come detto la ribaltano Bartolini annuncia altri due rinforzi saranno di categoria superiore oggi ci sarà la presentazione di Esposito e poi si è parlato anche nel dopogara dell'arrivo in casa giallorossa di Diamutene vi proporremo nei prossimi giorni anche un'intervista con il neogiocatore del Giulianova ma andiamo a vedere quello che è accaduto al Rubens Fadini ieri in questo derby giocato di fronte a quasi mille spettatori una bella coreografia per una gara avvincente che ha visto due squadre sicuramente onorare i 90 minuti di gioco vediamo Val Giulianova per 2-1 il derby del Fadini al termine di 90 minuti a dir poco entusiasmanti che hanno visto alla fine prevalere la formazione di casa che dopo essere andata sotto in apertura di gara e aver fallito il rigore sul finire di primo tempo ha avuto la forza nella ripresa di ribaltare il punteggio giallorossi in campo senza l'ultimo arrivato Diamutene con Di Paolo in panchina ospiti con stivalette ed esposito anche loro in panca Amelia sceglie dal primo minuto in attacco Dos Santos e Alonzi buona cornice di pubblico al Fadini con quasi mille spettatori e gemellaggio fra le due tifoserie al secondo minuto pronti via subito punizione dal limite per la vastese con Dos Santos che mette la sfera a lato all'undicesima azione contestata della vastese da parte dei giocatori di casa con un giocatore giallorosso che resta a terra dopo un contrasto e con l'azione che prosegue con la palla che da Alonzi dopo una deviazione arriva in area Dos Santos che a un metro dalla linea di porta mette alle spalle degli incolpevoli di Piero per il vantaggio bianco rosso la squadra di Del Grosso non ci sta e si rovescia subito in avanti al tredicesimo minuto sugli sviluppi di una punizione palla Fioretti che di testa sfiora il pareggio ancora Giulianova pericoloso al diciassettesimo questa volta con Barlafante che se ne va in contropiede andando poi a concludere sull'esterno della rete gara che non regala un attimo di pausa con al ventunesimo una conclusione ravvicinata per gli ospiti di Ravanelli non perfetta e con la difesa di casa che riesce a salvarsi in qualche modo e ad evitare il raddoppio aragonese le due squadre si affrontano a viso aperto con attacchi continui dall'una e dall'altra parte fino al quarantunesimo quando Alonzi con un tiro cross in area giuliese fa correre un brivido ai tifosi di casa al quarantatresimo i ragazzi del presidente Bartolini hanno la grossa occasione per pareggiare i conti con il rigore fischiato dal direttore di gara per un fallo di pollace su Antonelli e con Fioretti che dagli undici metri calcia però male con Bardini che para in due tempi nella ripresa al quarto minuto scontro in area vastese fra Giorgio e Barlafante con il direttore di gara che assegna il secondo rigore per il Giulianova contestato vivacemente dagli ospiti e con Fioretti che ci riprova ancora dagli undici metri mettendo questa volta alle spalle di Bardini per la rete del pareggio ma dopo due minuti arriva anche il sorpasso giallorosso grazie ad un gran gol di Barlafante che con un tiro a girare fa esplodere il Fadini il Giulianova è ora in vantaggio per 2 a 1 e la squadra di Amelia accusa il colpo rischiando di prendere la terza rete ma Fioretti al dodicesimo in area mette alle stelle al quindicesimo anche Suriano sfiora il 3 a 1 con Bardini che si salva con qualche difficoltà stesso copione al diciottesimo con il portiere della vastese che dice ancora al centrocampista giallorosso gli ospiti soffrono anche se si rivedono prima con un salvataggio provvidenziale di Dolce su Dos Santos al momento del tiro e poi al ventunesimo con il neoentrato esposito che a due passi da Di Piero manda il pallone in curva si arriva così alle concitate battute finali e poi con gli assalti aragonesi che spalancano però un'autostrada in campo per la formazione di casa che al 95esimo fallisce il 3 a 1 con Bardeggia tutto solo davanti a Bardini per la squadra di Mister Delgrosso sono tre punti pesanti per la vastese la prima sconfitta stagionale dopo il pareggio casalingo con il Chieti e a proposito di Chieti è arrivata questa vittoria ieri in casa ma sul campo del Pineto proprio contro la formazione pinetese Chieti che giocherà le gare casalinghe delle prossime settimane proprio a Pineto per via dell'indisponibilità del guido Angelini vedete il titolo Festa Chieti Supertraini affonda un brutto Pineto 2 a 1 il risultato finale per i Neroverdi Grandoni abbiamo dato un grande segnale dice il tecnico della formazione Teatina Epifani il trainer pinetese ci è mancata la cattiveria andiamo a vedere il messaggero il messaggero come ha commentato questi due derby il primo abbiamo visto il servizio qualche istante fa la vastese ci prova Giulianova più forte questo è il titolo sulla gara del Rubens Fadini poi derby al Chieti Pineto in difficoltà si arrende 2 a 1 i Neroverdi giocano sul neutro di Pineto come detto perché l'Angelini è indisponibile e allora andiamo a vedere le immagini di questo derby giocato ieri al Mariani Pavone nel servizio di Roberta Di Sante esordio casalingo inedito per il Chieti contro il Pineto al Mariani Pavone per indisponibilità dell'Angelini ma vincente con i Neroverdi che superano di misura 2 a 1 i Biancazzurri conquistando la prima vittoria in campionato Grandoni conferma per 9 undicesimi la formazione che ha pareggiato contro la vastese nel 3-5-2 Ricci prende il posto dello squalificato Vittiglio Folto centrocampo a 5 con Mazzolli a dettare i tempi in avanti la coppia d'attacco e Traini-Catalli emergenza difesa per Epifani che deve rinunciare per squalifica Sciba, Pepe e Nazari nella quercia fa coppia centrale con Orlando ma recupera nel 4-2-3-1 Sarrizzu in avanti che con Alessandro e Ciarcelluti agisce alle spalle di Pippi Pronti via è partita che sembra mettersi subito in salita per il Chieti costretto a rinunciare anzitempo a Catallo infortunato al suo posto Grandoni getta subito nella mischia il neo arrivato Bruschi e la carta si rivela vincente al dodicesimo infatti l'ex Arezzo raccoglie la sponda di testa di un Traini in versione Assisman e piazza il destro alle spalle dell'incolpevole Remo Amadio esplode la gioia nel settore distinti riservato agli oltre 300 sostenitori giunti da Chieti si gioca di fronte ad una bella cornice di pubblico con circa 600 spettatori sugli spalti il Pineto non vuole essere da meno e al diciottesimo all'occasione per pareggiare i conti con Cercelluti che se ne va sulla destra ma invece di servire Alessandro tutto solo in area sceglie la conclusione che da posizione defilata si spegne a lato al ventitresimo schema su punizione per il Chieti che va ancora alla conclusione con Bruschi provvidenziale su di lui la chiusura di Della Quercia Ricci protesta e viene ammonito sugli sviluppi dell'azione proteste pinetesiche chiedono il secondo giallo all'indirizzo del difensore Teatino per un contatto ravvicinato con Orlando ma il direttore di gara fa proseguire al trentaquattresimo ancora uno scontro di gioco con Venneri che rimane a terra per qualche minuto per un attimo si pensa al peggio poi il giocatore rientra in campo il Pineto sotto di una rete prova al trentaseiesimo a farsi vedere dalle parti di Camerlengo corner di Amadio e colpo di testa di Sarrizzu ma l'estremo Teatino è attento la tensione sale anche sulle panchine a farne le spese sono i rispettivi vice allenatori Marchetti e Diggian Natale che vengono ammoniti in chiusura di tempo il Chieti va vicinissimo al raddoppio con un'azione personale di Traini che se ne va sulla fascia e con una conclusione a giro sfiora il 7 in avvio di ripresa piove sul bagnato per il Pineto quando ancora un Traini in gran giornata entra in area e viene contrastato fallosamente da Orlando il direttore di gara indica il dischetto e dagli 11 metri Mazzolli spiazza Amadio per il 2 a 0 il Chieti è solido e non rischia se non al quarto d'ora con un tiro cross di Sarrizzu che costringe Camerlengo a smanacciare in angolo girandola di sostituzioni poi per i due tecnici con il Pineto che gioca anche la carta a quadro chiamato al 35esimo a calciare un tiro piazzato dai 20 metri che termina però sul fondo alla destra di Camerlengo il Chieti si difende con ordine il Pineto si riversa nella metà campo avversaria e al 42esimo Cercelluti serve massa ma il diagonale colpisce un compagno di squadra in pieno recupero al 49esimo il Pineto accorcia le distanze a quadro serve Pippi sul filo del fuorigioco che di testa supera Camerlengo per il 2 a 1 ma è troppo tardi per recuperare la partita finisce in festa per i neroverdi che vincono meritatamente ed esultano sotto il settore dei distinti con i propri tifosi amarezza in casa Pineto che dopo le prime due partite raccoglie un solo punto trasferta amara anzi amarissima in terra marchigiana per l'Avezzano che prima si illude con la San Giustese poi in cassa 5 Reti Mecomonaco Amaro al 91esimo non ci sono alibi davvero una sconfitta con pochi alibi per la formazione marsicana che esce con le ossa rotte dalla gara giocata sul neutro di Civitanova Marche e domenica prossima ci sarà la gara al Dei Marsi con la matricola Vasto Girardi andiamo a vedere anche in questo caso il servizio La San Giustese conquista i primi tre punti in campionato rifirando ben cinque reti al marcapitato Avezzano e sfatando il tabù bianco-verde col quale non aveva mai vinto partita dominata dai Rosso-Blu nonostante l'iniziale vantaggio ospite da segnalare le doppiette di Mingiano e del giovane Niane partenza subito lanciata per gli uomini di Senigalliesi al primo lancio della retrovia di Mengoni che pesca Pezzotti tira al vuolo il numero 7 leggermente alto al quattordicesimo ci prova dalla tre quarti Scognamiglio che costringe Fanti alla respinta al venticinquesimo azione manovrata della San Giustese conclusione di perfetti leggermente alta al ventottesimo l'ottanta San Giustese è però l'Avezzano a passare in vantaggio Fanti si porta avanti il pallone di petto Chiudini gli esce sui piedi e lo atterra per l'arbitro al rigore sul dischetto si presenta Gaeta che non sbaglia la reazione dei Rosso-Blu di casa è immediata al trentaduesimo è subito pari corna dalla destra di Pezzotti parabola Beffarda Fanti è battuto uno a uno trascorrono due minuti e al trentaquattresimo la San Giustese mette la freccia cross di Pezzotti mani di Ranalli per l'arbitro è ancora rigore sul dischetto si presenta Mingiano che trasforma con qualche brivido il pressing del rosso-blu è sempre molto alto e produce al quarantesimo il 3 a 1 Pezzotti effettua un tiro cross Fanti respinge in modo imperfetto e Niane ben appostato mette dentro prima dell'intervallo altro paio di occasioni per la San Giustese al quarantaquattresimo Niane recupera Palle cross verso Mingiano che colpisce l'estano della rete al quarantaseiesimo Niane serve in velocità Boschetti che tira sul primo palo Fanti diviene in corner la ripresa si apre sulla stessa falsariga del primo tempo al decimo Pezzotti per Niane che tira verso la porta Fanti è in angolo all'undicesimo si vede l'avezzano con Franchi migliore dei suoi che crossa verso Gaeta ma manda sul fondo al quattordicesimo occasione per il 4 a 1 per la San Giustese Boschetti recupera in velocità crossa in mezzo il pallone incoccia sulla mano di Gian Felice e per l'abiro è ancora a rigore sul dischetto si presenta Mingiano che però si vede respingere il tiro da Fanti il 4 a 1 però si materializza al 21esimo Pezzotti allarga verso Boschetti crossa in mezzo e Niane batte Fanti 34esimo arriva anche il quinto gol palla filtrante di Palladini per Mingiano che fa secco Fanti in diagonale l'ultima occasione è per l'avezzano in entrato Sicari al 35esimo conquista palla al limite tira verso l'ingoccio ma Chiudini è bravo e vuole respingere la minaccia note positive per il notaresco del presidente Salvatore Di Giovanni che dopo l'inopinata sconfitta di domenica scorsa in casa con il vasto Girardi per 5 a 3 sbanca il campo della corazzata campo basso per 3 a 1 l'ex pescarese Sansovini guida la riscossa davvero una grande gara quella giocata dalla squadra di Vagnoni in terra molisana andiamo a vedere il servizio realizzato per noi da Gianni Bruno Tonfo interno del campo basso al cospetto di un San Nicolò notaresco che rifila 3 gol ai rosso-blu e merita di vincere si gioca in una straordinaria cornice rosso-blu di 2000 spettatori e su un campo che colpisce per il verde rigoyoso che offre il campo basso è lo stesso di Avezzano ma gioca complessivamente male senza riuscire a cambiare mai l'inerzia del match dirige Grasso di Ariano Irpino al quarto Torre di Romano per Sansovini che viene anticipato da Natale con i punni il campo basso sbaglia a lasciare il pallino agli avversari specialmente nel reparto di centrocampo avanti gli ospiti al dodicesimo Cross Didi Stefano al centro vanno a vuoto Candelori e Brenci aggancia Sansovini che fa secco Natale con un tiro preciso è il vantaggio degli abruzzesi a Selvapiana quasi a sorpresa reazione di casa molto scarna al ventunesimo punizione di Frulla blocca il portiere Rosoblu Natale il campo basso fa grande fatica a farsi pericoloso al ventitresimo improbabile il tiro da lontanissimo scoccato da Musetti al ventinovesimo Cross dalla destra di Frulla e palla girata fuori da Romano a centro area la squadra di Cudini appare troppo statica il che favorisce quella abruzzese che sembra molto ben disposta dal tecnico Vagnoni Mosquillo casalingo al trentaseiesimo quando Zammarchi chiama in causa il portiere ospite Ginestra il quale si deve stuffare sulla sua sinistra il campo basso chiude in attacco forse si sveglia con qualche minuto di ritardo al quarantaduesimo gol annullato ai padroni di casa punizione di Alessandro sul secondo palo arriva dalle retrovie Menna che segna con Musetti che proteggeva l'ingresso in rete del pallone il gol viene invalidato per offside di Menna due minuti di recupero segnalati nel corso dei quali il campo basso prova ad accelerare senza però andare al tiro Cudini decide da subito due cambi dal primo della ripresa fuori Brenci dentro Tengorang in campo anche Giampaolo al posto di Zammarchi i lupi sembrano più vivi al quarto il tiro di Giampaolo incoccia la parte esterna del palo prima di essere bloccato da Ginestra al quarto d'ora c'è il tiro sballato quasi dal limite da parte di Cancelli palla fuori al diciottesimo punizione da posizione invitata sui piedi di Alessandro che si rivela davvero un cioccolatino per il portiere abruzzese Ginestra passa un solo minuto Pizzutelli si trova al limite dell'area ed è affrontato da Pomante Selvapiana vorrebbe il calcio di rigore ma per il direttore di gara è soltanto simulazione del centrocampista di casa al ventunesimo cross di Alessandro la tocca romano non ci arriva per poco bontà si batte un calcio d'angolo per il rosso-blu l'azione si conclude con un tiro troppo centrale da parte di Tengorang bloccato da Ginestra ora i lupi meriterebbero di pareggiare alla mezz'ora esatta Alessandro ammonito per simulazione per un fallo presunto ai suoi danni da parte di Frulla giallo per l'attaccante di Cudini poco dopo il tecnico di casa rinuncia anche a Pizzutelli per fare posto a Giambè il cambio accade poco prima del raddoppio ospite contropiede fatale originato da un controllo molto difettoso di Giampaolo che innesca blando corridoio aperto per Romano che trafigge il portiere di casa Natale 2-0 e partita che appare in ghiaccio per gli ospiti pubblico di Selvapiana mutolito dalla nuova situazione di fatto pubblico che esplode al 37esimo quando dal fondo il bel cross di Van Zan venne corretto in rete da parte di Tengorang 1-2 le speranze per i padroni di casa si riaccendono anche se alla resa dei conti si tratterà solo di un fuoco di paia speranze di casa alimentate fra l'altro anche dall'espulsione al 39esimo di Salvatori che interviene male alle spalle di Bontà ad un minuto dal novantesimo Alessandro chiede un calcio di rigore per un presunto braccio irregolare in aria da parte di Frulla anche qui si può giocare comandati 5 minuti di recupero che iniziano dal 46esimo causa infortunio a Mele del Notaresco al 47esimo c'è il tiro troppo centrale da parte di Giambè i rosso-blu continuano ad essere poco incisivi e privi di cattiveria 49esimo frittata combinata fra la barba troppo corto il passaggio di Natale che tenta di rimediare non ci riesce ne può trarre vantaggio Liguori che insacca facilmente il punto del Tris il pubblico di Selvapiana inizia a defluire lentamente mentre la squadra si avvia alla prima sconfitta stagionale poche le attenuanti per un brutto K.O. di cui Cudini si assume tutte le responsabilità testa alla trasferta di Tolentino per provare ad invertire la tendenza in casa Campobasso Bagnoni gioisce con i suoi giocatori la manciata di tifosi scesi in Molise il notaresco dopo un anno e Spugna ancora Selvapiana una vera bestia nera per i lupi e siamo al calcio dilettantistico abruzzese perché ieri si è alzato il sipario sul campionato regionale di eccellenza non sono mancate le sorprese come quella della vittoria del Castelnuovo Castelnuovo show Tonfo Lanciano 3 a 1 la vittoria del Castelnuovo sui frentani al 91esimo Lucarelli il tecnico del Lanciano dice avanti senza drammi vediamo gli altri risultati Angizia-Luco Torrese 1 a 1 Capistrello Spoltore 1 a 0 Nereto Cupello 2 a 1 vediamo anche l'altra pagina Superpenne a Valanga sui Bebi del Paterno Penne Paterno 5 a 1 Bagica Lupo Vasto Alba Adriatica 1 a 2 Nero Stellati San Buceto 0 a 1 Ponte Vomano Renato Curi Angolana 0 a 0 Acqua e Sapone Delfino Flacco Porto Pescara 1 a 1 ed è iniziato anche il campionato preso il via il campionato regionale di promozione vediamo il girone A i risultati Rosetana Miano 1 a 0 Mutignano L'Aquila 3 a 0 Batosta per L'Aquila in casa della formazione pinetese e poi Real Atria Mosciano 2 a 1 Morrodoro Amiternina 4 a 0 Piano della Lente Nuova Sant'Egidiese 1 a 6 Villa Mattoni Montori 88 2 a 2 Pizzoli Pucetta 1 a 0 San Gregorio Celano 3 a 2 Torni in parte Fontanelle 0 a 1 Vediamo anche quello che è accaduto nel girone B Fater Casalbordino 2 a 5 Silvi Atletico Lanciano 3 a 0 Casolano Ortona 2 a 1 Elicese Valdisangro 3 a 1 Ovidiana Villa 2015 1 a 1 San Salvo Bucchianico 4 a 0 Virtus Ortona Fossa Cesia 0 a 2 San Giovanni Teatino Miglianico 2 a 3 Scafa Passo Cordone Raiano 2 a 1 Chiudiamo l'ampia pagina del calcio Vediamo il basket La prima di Supercoppa per il Roseto Non è andata bene Roseto che si arrende nell'ultimo quarto E perde per 72 a 66 In casa del Caserta Serie C Silver Di basket Pescara Ingaggia Leali Patani E Razzi Vediamo anche Le altre notizie Di basket Serie B Esachieti Gialloretto Ottimista Adriatica Press Teramo Convinta Dal giovane Play Cucchiaro E poi Giulianova Contro Fabriano Prima sconfitta In amichevole Crono scalata Axi Ciclismo Borgese Il più veloce E pratititivo Davanti a Di Pietro Gli amici della Bici Junior Svettano a Sulmona Agonia Invece siamo al Raghevi Per l'Unione L'Aquila Presidente di Missionario Domani l'Assemblea dei Soci Per decidere se fare la Serie A Con Anibaldi Intenzionato A lasciare Il Podismo Adugna conquista Il Trofeo Tre Colli Di Montorio Alvomano L'atleta Italo-Etiope Primo Davanti a Raia E di Furia Tra le donne Bella prestazione Della Mancini A Canosa Sannita Il Teatino Ruggero La spunta Sul farese Giovannangelo E il 43enne Ricciutelli A una marcia In più Ad Ortona Il Portacolori Della Tocco Runners Si impone Nella terza gara Delle dieci contrade Secondo Arrivato Ciommi E siamo giunti Così al termine Dell'appuntamento Di oggi Con Mattino 6 Del lunedì Mattino 6 Che tornerà domani Come sempre Alle 8 Io ringrazio Claudio Di Giacomo In regia Ringrazio voi Per la cortese attenzione Vi ricordo Come sempre Per quanto concerne I nostri appuntamenti Informativi Alle 14 La prima edizione Del TG6 Le altre edizioni Alle 19 E alle 23 A proposito di sport Come sempre Non perdete Questa sera Alle 21 In diretta Dei nostri studi L'appuntamento Con Replay Condotto da Enrico Rocchi Per parlare Del Pescara Dopo la sosta Di campionato In vista Della gara Di domenica prossima A Cosenza È davvero tutto Grazie E buona giornata E buona giornata A C A C A C A C A C A A C A C A C A C A C A.... A